L'amministrazione comunale ha pensato di installare dossi per regolare e moderare la velocità, ma vediamo il parere dei cittadini. Ho un'ottima pensata del comune, mi fa piacere perché qui è una strada che parecchie macchine corrono e quindi in un centro abitato bisogna andare piano. Diciamo che ci sono pro e contro, da una parte è buono e da una parte ci dobbiamo rallentare tutti quanti, vedi si è fatta la coda infatti. Diciamo che sono molto utili perché le macchine vanno a velocità molto elevate qua e per loro non hanno avuto questa sensibilità di mettere questi distribuatori di velocità, è bene merito, dobbiamo copiare da carinale. Il cannaquare è tutta cosa, ma non solo di toso, infatti questa cosa non torna qua. Voi residenti lamentate questo? Ma è normale, abbiamo fatto la provincia del Toverullo, l'intero centro abitato. Quindi le cose chiede l'amministrazione? Cosa c'è? Perché non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Cosa c'è? 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 Grazie per la visione!